Ebbene sì ragazzuoli, non abbiamo tardato, siamo tornati con Yoshi e Yoshi ha 14.480 coppe, ciao Yoshino! Ciao a tutti! Mamma mia ragazzi, Yoshi è fondamentale per il channel e siamo qui per concludere il suo cammino dei trofei. Lo sapete meglio di me, il cammino dei trofei tra l'altro l'abbiamo anche esplorato nel precedente episodio, si conclude esattamente con l'ultima cassa delle 14.000, ma ufficialmente a 14.500 trofei con l'ultima ricompensa, 150 monete. Ora, non siamo qui per prendere ricompensa, ma siamo qui per concludere o per fare le ultime coppe. Sono 20 coppe da fare insieme, che fanno ovviamente in 2v2, ma per altri video con Yoshi, per il supporto a questa incredibile scala, perché Yoshi punterà alla top italiana. Quanti like Yoshi in un botto? 30. Oh my god! Nell'ultimo 28, questo 30. Ragazzi, 30.000 like e tornerà Yoshino. Like, iscrizione, attivate la campanellina e io direi di andare. Questa volta lo spawn via. Io andrei subito su quelle sopra, così ce lo andiamo a feitare con il team al centro. Ricordo ragazzi che il team al centro è quello un pochino messo peggio, però gli ha detto bene perché Strecca prende il power up veloce. Noi andiamo sotto. 20 coppe da fare, che sono un totale di 3 seconde posizioni. Guarda lì, guarda lì, guarda lì, guarda lì. Lì si potrebbe provare. Mi sa che si sono chillati tra di... Uh! Maledetto leone che è rapido, sennò sarebbe andato giù. Sì, però ovviamente non lo andiamo a pushare che ce ne sono 7. Corvo. Ah! Mannaggia co... Sti col... Ehi! Sti colpirando. Mi sa che me ne vado, mi sa. Me ne vado, me ne vado, me ne vado. Me ne vado, me ne vado. Parto, rega, mi stacco. Mi stacco. Mi dice anche fortuna che ho il passaggio libero. Anche se io sarei tentato di rimanere sopra. Se non si andare sotto sopra, rega, mi sa vado sotto. Appena rinasco sulla ulti. Vado, 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 vado. Mamma mia, mamma mia. No! Sì, sei rilato! Non ci credo! Oh mio Dio! Sono... Schillato da parte nostra. Zero coppe perse. Spike è molto strong. Cioè io non ho fatto in tempo a passare la puzza, ragazzi. Grande Yoshino che si apre un passaggio. Però veniamo colpiti e pusciati dal top team. Oh, sono sopra. Ok, quindi proprio... È difficile, ragazzi. A meno che... Ti prego, ti prego, ti prego, ti prego. Mamma mia, la strategia. La strategia, quella vera. L'ho visto, Spike. Chino... Grax scrive... La strategia, quella vera. La ninja da della vita. Grax, vatti a far... No, sei rilato! GG, ragazzi. Più 7. Ci mancano Olli, 14 coppe. No, scusate. Olli, 13 coppe, sbaglio. 13. 13 coppe per Yoshino, però adesso cambio codice. Ti invito io. Eccoci qua. Spawn in basso a destra non ce l'ha dato praticamente mai. Esatto. Vai, bravo. Io prendo al volo questa qui. Me ci vogliono 7 colpi. 8 colpi con Pocho per fare una cassa. Però meglio di niente. Grande Yoshino che mi va a boostare l'attacco. Dovrei metterci altri due colpi. Pulito. Un anno in mezzo. Ah, tic. Oh, tic Leon. Grazie tic per la velocità. Matto tic, ragazzi. C'è staccava in niente tic. Ma che ti stai inventati tic? Te dico ferme, te tic. Leon fa paura, eh. Brock tic. Tic morto. Bull che va a pulire. Grande giugna da parte mia, raga. No, 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 no. Grande cura. Mamma mia, che killo che ho fatto? Completamente randomica, però l'abbiamo fatta. E ora spingiamo Bull verso il leone centrale. Eccolo lì, eccolo lì. Bam, giù preso nel canestro. Altri danni per cieli. Cura, tattica per noi. Doppio leone. Hanno rotto il sistema, raga. Dobbiamo togliere Piper. Altro più 7. Sopra. Altro più 7. Eccola lì, Paperina. Può anche giampare. Vabbè, ma sei veramente fuori di testa. Gli ha rinato Bull. No. Non ci credo mai. Ditemi che non è vero, raga. Ditemi che non è vero. Ma questi, insomma, ma come stanno giocando? Piper ha giampato. Raga, a parte gli scherzi. Non scherziamo. Piper ha giampato verso i leon maxati, raga. Sono morto, meglio così. Ma Piper ha giampato addosso ai leon maxati. Altro più 7. Ultima partita la chiudiamo. Naggia, mannaggia. Che peccato. Due errori pazzeschi che ho fatto io, ragazzi. Allora. Vado subito al centro. Oh, arrivo. Quanto so pollo, ragazzi. Mi sa che qua non c'è nessuno. Sbaglio. Sbaglio. Mi faccio 5 danni. Oh my god. Oh my god. Oh my god. Ma sono un aratro davvero. Ma vuola spettacolo. Piper. 7 power up all'inizio. Totalmente randomici. Piper sta solitaria. Qua c'è un, il primo che va giù. Il corvo. Che lo costringa ad andare via. Probabilmente anche a giampare. Allora, tu ti fai Shelly. Io vado sopra e prendermi il corvetto. Eccola. Eccola che passa dietro. Morta Shelly. Easy. Corvo che se la giampa. Mamma mia, con quanta fieriezza stiamo facendo queste battaglie. Ah, no, è sopra? Eccolo. Ok. Giampa male. No, giampa bene sulla sinistra. Però comunque gli sto abbastanza rapido vicino. Ok, Corvo dovrebbe andare giù con qualche... No. Shelly fa danni. Tra l'altro anche Stellata potrebbe avere i cerottini. Allora, se te la rischi ho la... Ho la cura, eh. Ho sbagliato a chiudere. Ah, ho sbagliato. Vai, vai tranquillo. Va bene, va bene, va bene. Non spreco la cura, ragazzi. Rimaniamo qua sopra. 10 power up. Almeno poi torniamo sotto col botto. Mi raccomando, ricordo. L'iscrizione è gratis. Attivata anche la campalina per altre live pazzesche. Perché stiamo veramente scalando un botto. Ci stanno facendo sudare sta... Fine della scalata. Vabbè, sto team. Occhio Piper. Che botta che ha tirato. Ole. Piper se ne va. Rosa credo pure. Questa di sinistra è praticamente morta. Il più set è arrivato. Ma secondo me, se ce la giriamo bene, possiamo concluderla con una vittoria. Attenzione. Sì, 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 raga. Dovrebbe essere easy. Dovrebbe essere easy. Ciao, onerosa. Grande vittoria. Tattica. Non è una bellissima partita un po' sporca. Però comunque un più 9. A Yoshi mancano, ragazzi. In questo esatto momento mai stati così alti. Ma sicuramente faremo un'altra partita. Perché io sto per fare pocio al 500. Ragazzi, a Yoshi mancano due coppe. Yoshino. Tempo di spaccare. Andiamo di cattiveria. Andiamo con il pocio. Dove fare 11 coppe, ragazzi. C'è un modo per fare una partita? Non credo. Ci proviamo. No. Andiamo su con questi qua sotto. Nice. Rosa sta arrivando, ma... Matto Leon, matto, 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 matto. Non sono morto, non so perché. Ok. Sopra ce n'è una. Sì. Là c'è un altro pocio. Eh, pocio... No. Sì, pocio Beryl. Anche Beryl, secondo me, può dire la sua. Max status, sì. Guardalo. Guardalo. No, 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 no. Ho sparato, ho sbagliato. L'ho killato comunque. No, no. Sì. Mamma mia, Craxi è impredictabile. Un cavolo di Matrix. Tutti i colt, ragazzi. Tutti i colt a queste coppe vanno tutti quanti dato fire. Non prendono mai. Zero. Zero. Non riescono mai a colpire. Ci pensa Yoshino a killare. Occhio al corvetto. Che si è avvicinato un bel po'. Morto. Ho anche la cura per te eventualmente. Curettina andata. E qua, ragazzi, dobbiamo essere bravi a rimanere al centro senza lasciarci le penne. Io buscerei le on. Vai. Chiudiamolo. Tu sopra, io sotto. Sta la cicoria. Ah, no. Ah, cavolo. Sta sotto. È morto. Morto te puzza. È morto ovviamente insieme a Rosa. Se riesco vado a prendere le briciole. Esatto. Un power up comunque, ragazzi. Schifo. Non fa mai. Tac. Ragazzi, questa è la partita di vitale importanza. Occhio rinato le on. Siamo ancora cinque squadre. Ma le on che te va inventato non c'è neanche un power up. Ma che vuoi fare? Occhio, che vuoi fare, on. Are you serious, bro? Occhio, un colt con la ulti. Arrivo, arrivo, arrivo. Ho preso sette danni per prendere un power up. Vabbè. Ciao, ragazzi. Stiamo killando il server mano a mano. Purtroppo non c'ho la cura. Purtroppo non c'ho la cura. Chi decidiamo di pushare? Sinistro, destra? Questi qua. Vai. Vai. Bella la pushata. Sono costretti ad andare a destra. Poi ci va giù. Ti posso curare appena voglio. Ok. Ragazzi, altro più 9. Easy. Mamma mia, ragazzi. Con quanta nonchalance. Con quanta nonchalance. Ultima partita. Yoshi ha finito il cammino trofeo. Eh sì. Ma come per il video di... No, chi stavamo giocando l'altra volta, non mi ricordo. Era Piper e Mortis. Piper. Piper e Mortis. Ragazzi, mi faccio poscio. Grado 20. Me l'avete detto tutti quanti. Me lo faccio. Grado. Aspettate che il nuovo evento... Nooo. Il nuovo evento. Sì, va bene Scelli. Va bene Scelli qua. Va bene sia Scelli che Pocio. Pocio, ragazzi. Grado 500. Hashtag grado 500 nei commenti. Ultima partita. Ci salutiamo. Altro leggero daio. Scusate, ragazzi. Abbiamo perso. E ci mancano 7 coppe. Lo stiamo facendo per voi. 7 coppe, quindi seconda posizione. Sapete che sono malato per queste cose. Ma io non voglio chiudere l'episodio con un Pocio che non sia grado 500. Lo vogliamo grado 500. Sbam. Ho visto una cassetta che non hanno preso. Ottimo. Cassetta abbastanza defilata. C'è qualcuno? Ok, Leon. Sotto di me è un Leon. A sinistra una Scelli. Si stanno strakillando. Ok. Dovrebbe essere rinata... Rinata lo Stecca. Stecca Scelli. Stecca regalo col Pisco. Fatto un triplo danno per la ulti. Bravo, bravo, bravo. Attenzione. La Stecca è vero che c'ha zero power up. Sempre meglio stargli un pochino lontano. Grande kill. C'è Scelli e Scelli... Mamma mia che danni che gli ho fatto in faccia è quella Scelli. Sono veramente massacrata. Questa va giù. BAM presa. Sì, 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 sì. Avvicinatevi se avete il coraggio, no? Avvicinatevi. Voglio la prima posizione. Questa deve andare giù. Ho la cura e non la sto utilizzando. Cerotti per Scelli. Sentono Yoshi super concentrato, raga. Come possiamo vincere la rega? Non lo so, non lo so, non lo so, non lo so. Bravo. No, errore. Mamma mia, grande cura. No, errore. Eh, forse... Uh... Eh, per i cerotti. Ah, cerottini. Per il problema sono i cerotti. No, non mi morire. Non buttare quattro. Oh, my God. Cerco di... Catturare l'attenzione, ragazzi. Grado 500. Non ci accontentiamo. C'è Leone nella parte bassa che va a morire. Te prego. Dimmi che è morto. Sì. No. Uh, uh. Te prego, te prego. Uno, 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 uno. Oh, io l'ho più raggia. Sì. Easy. Ah, ah. Vai così. Come lo vedrai. Un video al top. Grandissimo, Yoshino. Ragazzi, grado 20 anche su Pocho. 300 punti stellari. Gettone, stella. Torniamo indietro e siamo ad 8.300 punti. Con una scelia a 538, ma totali 14.510. Yoshino il cammino trofei. Pazzesco. Esatto. Abbiamo finito il Calvary. Ragazzi, completato. Brawl Stars. Una marea di brawler a 600. Yoshino sta veramente spaccando tutto. Lo vogliamo vedere in top. Vediamo a quanto sta. In questo momento ci salutiamo. Io nel frattempo vi chiedo like, iscrizione, attivate la campanella. Un contenuto mostruoso. Il nostro GX. Yoshino è via. Ce ne sta un sacco a 15.000. Rega, adesso si scala troppo facile. Troppo, troppo easy. 510. È 176. Yoshi, ti mando un bacio. Se il video arriva a 30k, torniamo insieme. Mando un bacio a tutti. Grazie, Yoshino. Al prossimo episodio. Ciao, ragazzi. Like e iscrizione. Ciao, ciao, Yoshi. Ciao, ciao.